Presidente Mattoscio, sono arrivate le lettere ai dipendenti della Ryanair per il trasferimento, però la Regione continua a lavorare per scongiurare l'addio della compagnia irlandese dall'aeroporto di Pescara? Le procedure che la Ryanair sta seguendo sono quelle di rito inevitabile nel momento in cui la compagnia ha assunta la decisione di lasciare lo scalo abruzzese, ma i rapporti continuano, non si sono mai interrotti, già prima della decisione la saga stava portando avanti con non poche difficoltà, ma con grande determinazione il confronto con la Ryanair per provare a continuare, a far continuare questa partnership così virtuosa per la nostra Regione e reputo che ci siano ancora tutte le condizioni affinché questo confronto possa avere esiti positivi. Proprio ieri ai nostri microfoni il consigliere delegato dei trasporti Camillo D'Alessandro aveva detto i soldi ci sono, li abbiamo trovati, ora ci sono i tempi tecnici da rispettare. I tempi tecnici sono brucianti, come si dice, perché nel settore dell'aviazione civile la pianificazione delle attività avviene in genere l'anno prima per l'anno dopo e dunque occorre fare presto. I soldi non sono un problema perché occorre convincersi che qualunque investimento pubblico nella dimensione anche già sperimentata risulta essere un ottimo investimento relativamente alla sua capacità di efficientamento e di valorizzazione dell'economia e del territorio regionale. Voi state comunque lavorando, proprio nei giorni scorsi avete anche parlato del nuovo volo che ci sarà Pescara Olbia. Sì, era un'attenzione rivolta a lungo da parte della comunità di Abruzzisi in Sardegna o di Sardi in Abruzzo e anche da parte di numerosi operatori economici affinché si ristinasse un contatto almeno per la stagione estiva con quella importante isola.